che tu fai esco cioè tu sei allenatore da roma dai sentimo dai di 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 gioco con quattro difensioni eh quattro tanto sei ricco piccolo scarparo là un po' fa dall'altra parte a sinistra c'hai anche ligno che se tante volte riesce a fare un cross e ora che cura ok in due centrale Crissante che si muove sta là fatto sempre il quarto centrale o metti lì davanti insieme a Manu Bonet che dà un po' più di spitta un po' più di gamba dietro le punte quel morto di pellegrini male che vada c'è di pala e sciaravi o bardassio e sulle a destra davanti di Obic basta e sciaravi ti fa la faccetta di penne ti fa pure il difensore e là davanti lasci i pellegrini se andiamo a direttra d'Obic a destra bardassio e sulle quindi che modulo è? è un quadro Paolo stiamo a conferenza stai è una settimana che stiamo qua stai a fare i piatti Paolo mi fai parlare stiamo a fare la conferenza stampa di mister Zarbatori mi spieghi il modulo com'è? 4, 2, 3, 1 non è che è quell'arbero di Natale un po' storto 4, 2, 4 difensori quindi è 4, 5, 1 solo 4 difensori, due davanti alla difesa due esterni sciaravi che torna bardassio e sulle che vanno a dare una mano a Diobic davanti e dietro un pellegrini che viaggia per campo tanto far morto che gira questa mossa così questa qua questa pellegrini che te fa così e davanti? davanti il grande Diobic Diobic è un giocatore nuovo da Roma Diobic Diobic Diobic